Il giudice Giovanni Falcone Il sangue dei giusti è sempre Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano Di cambiare, di cambiare Loro non vogliono cambiare, loro non cambiano Sono Maria Elena, vivo a Corleone E sono una volontaria del CIDMA Il centro internazionale di documentazione sulle mafie e sul movimento antimafia Questo centro apre il 12 dicembre del 2000 E il Tribunale di Palermo ci dona i faldoni del maxiprocesso Una parte di questi faldoni Gli altri sono secretati al Tribunale di Palermo E all'interno di questo centro c'è anche una mostra permanente Della fotografa, della fotoreporter Letizia Battaglia È una fotoreporter che lavora per un quotidiano l'ora negli anni 80 E documenta tutto ciò che la mafia fa Tutti i crimini che commette Lei li documenta affinché la gente veda la realtà L'uomo che viene ucciso in questa foto non ha nulla a che vedere con la mafia È un uomo comune Che viene ucciso per il semplice fatto di aver visto qualcosa che non doveva vedere O avrà detto qualcosa che non doveva dire Quindi molto semplicemente si sarà trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato E ce ne accorgiamo da come viene ucciso Viene ucciso nella parte alta di questo garage Stava andando a riprendere la sua auto in un garage di Palermo Viene ucciso in alto e viene trascinato in basso Viene girato e gli vengono messe le mani in tasca E la faccia gli viene rivolta verso terra Questa è la classica posizione della testa no saccune Cioè testa nel sacco in italiano Che significa proprio il fatto che quando una persona cammina per strada Non deve guardare nulla di ciò che gli succede attorno Quindi è un monito per chi guarda questa scena Per chi si trova a passare Quindi per tutte le persone che stanno guardando in alto Che si trovano nella parte alta della strada Vedono quest'uomo E il primo pensiero è Io per avere salva la vita non devo comportarmi come lui Quindi devo farmi i fatti miei Non devo vedere, sentire e parlare Tu lo sai cosa hai fatto con lui? No Io ho fatto No No Sì? No Ma come che no? Lo verai? Sì Vabbè però non vale Perché non lo voglio fare Volere non è importante Perché le immagini Le immagini nascono casuali Voi che volete dire allora? Per esempio Non so se mi spiega Che il mondo intero No? Il mondo intero proprio Dico il mare, col cielo Con la pioggia Ora tu puoi già dire eccetera 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 Cioè il mondo intero Allora è lamentabile di qualcosa Che c'è una strassata No, 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 no Avete fatto una faccia strana Mario facciamo un Adesso faccio un bel bagno Ti rifletterò che sono la tua domanda E poi domani ti darò un esagerato Ma verai? Sì Veramente Mi alzo dal letto Mi lavo la faccia E mi sbrigo Poi scendo E bilbo la mia vita E sto facendo Diciamo una pittura in tre dimensioni Come un disegno Come un disegno dello spazio Le forme si mescolano lo spazio Le geometrie Interagiscono con le ore di questo posto Stiamo ricreando una storia Che sarà parte di questo posto per sempre E queste forme sono in continuo mutamento Loro sono ragazzi di Palermo Stanno ancora studiando all'accademia E insomma Sono all'inizio di una possibile carriera artistica E quindi l'ho coinvolto in questo progetto I ragazzi hanno bisogno comunque un po' Di unirsi tra loro Ma comunque si hanno bisogno anche un po' di una guida Perché se no si possono anche perdere Questo sarebbe qualcosa che perdono tutti Non soltanto loro Quindi il mio tentativo è proprio quello Comunque di creare un corpo tra loro Un corpo unico Per avere più forza Per avere più voce Perché se no singolarmente Secondo me oggi Non si ha abbastanza voce Questo mestiere è molto importante Perché non penso sia solamente un mestiere Non penso nemmeno che sia una missione Altrimenti avremmo fatto i preti Però penso che questo mestiere Contribuisca un pochino a cambiare Quanto meno una percezione della vita e del mondo Se noi guardiamo le statistiche Vediamo che la presenza delle donne All'interno del crimine Arriva intorno al 20% Cioè fatto 100 il numero dei reati Che vengono commessi L'80% viene commesso dagli uomini Il 20% delle donne Naturalmente con delle tipologie E delle oscillazioni molto forti Perché se guardiamo gli omicidi Le donne sono presenti solo per il 4% Se guardiamo l'emissione di assegno a voto Le donne arrivano a più del 50% Anche al 60% Se ci andiamo poi a chiedere Perché le donne siano meno devianti degli uomini Potremmo ribaltare la domanda Chiedendoci Ma perché Perché non ci chiediamo perché gli uomini siano così devianti E invece appunto vogliamo sapere perché le donne lo siano così poco Perché l'anomalia è che le donne siano poco devianti E non che lo siano effettivamente tanto gli uomini Andando poi a guardare nello specifico la vicenda delle donne di mafia Ci accorgiamo che per quello che riguarda i processi Alcuni dei processi che sono stati fatti a loro carico Molto spesso per un pregiudizio Che era stato importato dall'interno stesso del mondo mafioso Per cui la donna era L'organizzazione mafiosa è un'organizzazione soltanto maschile La donna è considerata un soggetto fragile La donna è considerata un soggetto che è portatrice di guai E dunque bisogna tenerla lontano da quelle che sono Diciamo le vicende dell'organizzazione stessa Questo pregiudizio diciamo dell'esclusione femminile Ha fatto sì che molto spesso in presenza anche di reati conclamati Invece di individuare una fattispecie di reato specifica Appunto, non lo so, detenzione abusiva di arma da fuoco A carico della donna Si è stato scritto il reato di favoreggiamento Favoreggiamento che per l'articolo 384 del codice penale Qualora sia commesso da un familiare Non costituisce reato Dunque in questo caso Le donne escono dalle statistiche giudiziarie Perché dipende da come il magistrato ha interpretato Il loro ruolo E dunque ha scritto il capo di imputazione Da quando sono iniziati anche a circolare degli studi Molto spesso fatti da donne E questo è anche interessante Cioè ad occuparsi di donne di mafia Sono state molto spesso delle donne Quasi che fosse un argomento di nicchia Che non fosse abbastanza serio ed interessante Perché se ne occupassero tutti Quando questi studi hanno fatto vedere Quello che era anche il rischio Della sottovalutazione di questi ruoli femminili E il favore che si poteva fare Alle organizzazioni primi criminali Non vedendo il ruolo importantissimo Che le donne avevano C'è stato anche da un punto di vista statistico Un aumento del numero di donne Condannate per 416 bis La prima donna che viene condannata al 41 bis Il 1996 è Maria Filippa Messina Alla quale, donna di 28 anni Allora alla quale vengono dati Circa 14 anni di carcere E dunque viene trattata in qualche modo Anche da un punto di vista giudiziario Come un uomo Nel senso che le viene riconosciuta Una specifica responsabilità I was invaded by Veronica and Ali To join Fat Studio Raid At Corleone In the house of Lobue Rest in peace His son next door And the carabinieri Watching us So we decided to participate In this very meaningful project From New York City So I brought One of my favorite artists That performs A system of anti-violence Performances Being from China And gone During the communist regime That he compares Pretty much To the mafia And other organizations Such as them For him For him the communist party Does the same thing As the Corleone Mafia used to do Just expropriate People for their own land Against their will And then forcing them To move into apartments In the city And then run out of money And that's it So he said They called the mafia The Chinese called the mafia Black hands But why not red hands And I said Well that's what You're going to be doing Today in your performance You're going to be red handed You're going to be caught Red handed In the garage Of Lobue Blu-e Allora, questa volta Ad essere ucciso E' un mafioso Lo uccidono con un colpo di pistola alla bocca, gli introducono una pietra per simboleggiare il fatto che ha parlato troppo. Quindi ci sono diversi simboli che andiamo a decodificare all'interno di questa foto. La prima è appunto la modalità con la quale quest'uomo viene ucciso e la seconda è invece la modalità con la quale la famiglia tratta il corpo di questa persona che è comunque un loro caro. Quindi dopo averlo ucciso la mafia lo restituisce alla famiglia la quale è impossibilitata a trattarlo nel modo in cui vorrebbe, quindi a fare dei funerali, a mettere dei fiori, a tenere il corpo in casa. Infatti in questa foto ci accorgiamo dal fatto che dietro il corpo c'è una porta ed è la porta d'ingresso della casa, quindi viene lasciato appositamente fuori, è una cosa che in genere non viene mai fatta, proprio per simboleggiare questa rottura con il passato, quindi con il mafioso che ha tradito l'organizzazione mafia parlando, quindi ha rotto il muro del silenzio e la famiglia vuole lanciare un messaggio e il messaggio è quello noi non abbiamo nulla a che fare con lui che parlando ha tradito la mafia. Mi dice qual è il suo nome per favore. Io mi chiamo Placido Rizzotto e sono nipote di Placido Rizzotto e essendo nato tre anni dopo la sua morte la famiglia ha voluto in onore del congiunto che era stato barbaramente ucciso per le sue lotte politiche sindacali darmi il nome appunto dello zio per dare un giusto diciamo continuità, è un qualcosa che la famiglia aveva nel cuore di tenere vivo il nome di Placido Rizzotto perché la famiglia Rizzotto è stata sempre cosciente della motivazione per cui Placido era stato ucciso fin da subito non sempre succedeva così nel caso dei sindacali succisi perché le indagini si va a leggere il rapporti del carabiniero della polizia andavano subito a screditare la personalità della vittima per diciamo chiudere nel più breve tempo possibile le indagini preliminari come omicidio ad opera di ignoti escludendo categoricamente la matrice politica sindacale dell'ucciso nel caso di Placido Rizzotto il primo rapporto dei carabinieri scritto nei giorni successivi alla sparizione perché Placido Rizzotto non viene ucciso pubblicamente viene sequestrato, è fatto sparire viene ucciso e viene buttato in una buca in una montagna qua vicino chiamata Locca Busamba perché nelle intenzioni di Placido Rizzotto si doveva perdere sia la memoria sia proprio la fisicità doveva essere cancellato dalla storia invece la famiglia che aveva pienamente diciamo contezza della motivazione alla matrice dell'omicidio cominciò a fare delle denunce pubbliche come dicevo il primo rapporto dei carabinieri dice la sparizione di Placido Rizzotto è sicuramente da rapportare alla sua attività politico sindacale. Dopo una settimana il carabiniere che fa questo rapporto viene trasferito e chi lo sostituisce scrive un secondo rapporto. Secondo rapporto dice testualmente la sparizione di Placido Rizzotto è sicuramente una vendetta trasversale nei confronti del padre il quale è stato legato ad ambienti mafiosi ma il padre cerca di fare passare la sparizione con motivazione politica per avere le sovvenzioni del partito. Quindi con le forze dell'ordine che operavano in questa maniera non era facile dimostrare le motivazioni per cui questi sindacalisti venivano uccisi. Tant'è che molti come Antonella ha testimoniato per molti anni sono stati convinti di essere familiari di un morto ammazzato ma un morto ammazzato perché non si faceva i fatti suoi perché se l'era cercata perché non era era un attacca a bighe oppure molto spesso veniva usato la formula questione di donne e questo è un classico ci hanno tentato anche a Placido ma la famiglia ha sempre reagito in maniera determinata. Tant'è che Luciano Liggio che è stato l'esecutore materiale del delitto dopo tre giorni contrariamente a quello che era successo per tutti gli altri dopo tre giorni incontra una pattuglia di carabinieri e scappa e si dà la latitanza. Tre giorni dopo l'omicidio di Placido Rizzotto Luciano Liggio inizia una latitanza che durerà 16 anni perché sarà arrestato poi nel maggio del 1964. Invece in tutti gli altri casi di omicidi di sindacalisti gli assassini continuavano a camminare impunemente per l'estate del paese ed era sicuramente una tragedia per i familiari di rivedersi magari passare sotto casa con fare beffardo e con diciamo tracotanza questi mafiosi che erano stati gli autori magari della morte del loro voglio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.